Top Edil nasce dalla passione per la ricerca dei materiali di grande qualità. Offriamo servizi di consulenza per privati, progettisti ed imprese del settore, vernici, cartongesso, parquet, carta da parati e tanti altri materiali di rifinitura edile delle più prestigiose marche tra cui Sikkes e Knauf. Top Edil, le migliori soluzioni alle vostre idee. A Matera, in via Giardinelle 32, zona Pipe 1.